Allora, riforma sanitaria in Lombardia, ospedale di comunità, ne abbiamo già parlato una volta con Marco Mariani della Lega insieme a Marco Fumagalli. Ne riparliamo questa sera perché adesso quando iniziate a parlarne in Consiglio regionale? Mercoledì, abbiamo provato in Commissione Sanità e in mercoledì inizia in Consiglio regionale, quindi entro la fine del mese approveremo la legge. Ok, allora, le questioni fondamentali che riguardano i cittadini che ci guardano, perché è una riforma della legge 23, della legge sulla sanità che era stata istituita dalla legislatura precedente, questo cambierà per quanto riguarda i medici di base e il rapporto tra il medico di base e il paziente? Sì, allora, innanzitutto io parlo sempre, premetto, non è una riforma, la riforma l'abbiamo fatta nel 2015 in assenza di una riforma nazionale che ancora stiamo aspettando dopo dieci anni di taglio sulla sanità pubblica italiana perpetrata dai governi centrali, taglio sull'assunzione dei medici, sul personale sul territorio, insomma tutte cose che oggi vediamo lampante anche dopo il Covid. Ciò detto, la legge in Lombardia, questa legge prevede l'istituzione di strutture territoriali, vogliamo potenziare il territorio, farlo con delle strutture. Quello che ci siamo accorti che mancava, che è mancato durante il Covid, no? No, noi avevamo solamente gli ospedali e i medici di base, i medici di base abbiamo visto a macchia di lopardo, l'obiettivo di questa legge è innanzitutto fare in modo che i medici che riescono a dare un contributo fattivo sul territorio vengano valorizzati, quindi le realtà in cooperativa, in organizzazioni complesse, insomma medici che lavorano insieme sui singoli territori e lo facciano con delle strutture territoriali a loro disposizione, poliambulatori, ospedali di comunità per le cure intermedie, dall'altra parte ovviamente sempre rafforzando anche il nostro tessuto ospedaliero, ecco non è che abbandoniamo il tessuto ospedaliero. Cioè quel pezzo mancante, perché la riforma di Maroni mancava un pezzo, no? Che era quello dei prest, era quello dell'aspetto... Non sono mai arrivati i soldi, non sono mai arrivati i soldi, non è mai stato fatto, quindi diciamo che questo che state facendo va a riempire il pezzo mancante del 2015, è giusto? In termini semplici? Non è così. Allora, prendiamo le risorse del PNRR, effettivamente i soldi ci sono, li investiamo per fare delle strutture che già avevamo normato, stiamo cercando di fare delle strutture non guardando all'Emilia o al Veneto, dove anzi ci sono molte polemiche su come sono queste strutture, in Toscana che quest'anno chiude con 400 milioni di euro di passività sul bilancio sanità, stiamo guardando al nord Europa, stiamo guardando quei paesi dove sul territorio lavorano molto bene da anni, per fare in modo che i soldi del PNRR siano spesibili. Allora, ospedali di comunità, centri di comunità, cioè adesso attualmente il medico di base è uno solo che sta nel suo ambulatorio, in base a questo progetto non sarà più così, giusto? No, non è vero, non cambia niente, mi fa piacere che Emanuele Monti l'ha detto mettendo un po' le mani avanti, non è una riforma questa, perché se fosse stata una riforma avrebbe dovuto avere più coraggio e contenere delle cose che purtroppo non contiene. Adesso se si fanno le case della comunità, gli ospedali di comunità che dovrebbero dare finalmente anche alla Lombardia la sanità territoriale e che è mancata in tutti questi anni, tradutto vuol dire avere più riabilitazione, avere liste d'attesa più corte. Se si fa questo è perché arrivano i soldi dell'Europa attraverso il piano nazionale di resistenza e resilienza, cioè questo PNRR famoso che anche in Lombardia porterà le case della comunità, gli ospedali di comunità. Però noi avevamo bisogno del coraggio in regione di fare quello che dicono da tanto tempo, da Maroni in poi, ma che non hanno fatto, di portare questa riabilitazione, la prevenzione vicino al luogo in cui la persona vive. Oggi uno che ha il diabete, uno che ci ascolta il problema di cuore, finisce fatalmente in Lombardia in ospedale a fare la visita, con tempi d'attesa molto lunghi, i cronici e chi ha bisogno di riabilitazione devono trovare vicino a casa il posto dove poter curare la propria salute. In maniera diffusa, Maroni l'aveva capito questa cosa, l'ha scritta in quella legge del 2015, ma poi in sei anni non è stata fatta. Perché non è stata fatta? Perché allora loro cancellarono le ASL, credo che tutti si ricordino che una volta c'erano le ASL. Le ASL in Lombardia non ci sono più, hanno messo tutta l'organizzazione sanitaria sotto gli ospedali e questa cosa non ha funzionato perché i direttori generali, tutta l'organizzazione sanitaria è stata tutta ruotata intorno all'ospedale lasciando da solo il territorio. Loro dovevano mettere mano a questa cosa e non lo fanno, è questo che ci ha stupito perché si era capito. Però per essere chiari con chi ci guarda, da quello che ho capito io... Sì, ma da quello che ho capito io, il problema non è solo dei cronici, da quello che ho capito io ci saranno queste case di comunità, comunità, non ho capito come le chiamate, dove oltre a esserci il medico di base ci sarà magari l'opulista, c'è magari l'ortopedico. Io ho capito che era così. Perché è una non riforma, non c'è scritto che i medici andranno dentro lì. Quindi una sorta di piccoli ambulatori del territorio dove questo avrebbe un senso di chiarire, perché se no la gente da casa non capisce. Cerchiamo di chiarire bene. C'è innanzitutto un programma nazionale che è quello del PNR. Sono in attesa di un ernie inguinale, mi hanno dato due anni di attesa, normalmente erano 12 mesi, spero che questa riforma acceleri. Questa riforma accelererà. Non c'è nessun... Allora innanzitutto, non confondiamo le cose, tempi di attesa, questo è un problema nazionale, mondiale, dopo che gli ospedali sono stati chiusi un anno e mezzo. Ho capito, ma c'era anche prima, quante trasmissioni ho fatto io sulle liste d'attesa? Perfetto, perfetto Adriana, però guardiamo i numeri, 2021, noi siamo quasi al pari del totale delle prestazioni fatte nel 2019, nonostante anche quest'anno c'è stato il Covid, nonostante tutte le difficoltà. Quindi il lavoro che sta facendo molto bene la Vicepresidente Moratti è stato quello di accelerare il più possibile tutte le attività cliniche all'interno dei nostri ospedali. Abbiamo la fortuna, siamo la regione che è più avanti nelle attività cliniche di tutta Italia, perché? Perché siamo riusciti a stanziare i soldi nostri, i lombardi, 100 milioni di euro di abbattimento sulle liste di attesa, grazie a un modello che ha sia ospedali pubblici, sia ospedali privati che erogano un servizio pubblico. Sì, però non puoi negare che il problema delle liste di attesa esista. Scusa, questo è il problema che non è risolto. Però se vogliamo dire che il problema delle liste di attesa è dovuto alla regione Lombardia o alla riforma Maroni è un grandissimo errore. A questo punto votiamo il PD, vediamo il PD come governa. Ma c'è anche nelle altre regioni. Perfetto, è anche molto peggio. Quindi sto dicendo, cosa serve per diminuire le liste di attesa? Ecco, cosa serve? Due cose che ci sono nella riforma. Due cose in cui... Allora, sentiamo le sue due cose, poi mi dici le due. Te dico due. Per te cosa serve? Perché quello che interessa più di tutto è la lista d'attesa. Non dico cosa serve, dico cosa è dentro nella legge. Le cose che saranno fatte. Uno, un CUP unico per tutte le aziende ospedaliere della Lombardia. Private e pubbliche. Pubbliche e private. Questo partirà già dalla fine di quest'anno. E già solo questo permetterà di abbattere il 20% dei tempi di attesa. È già stato simbato. Sì, però chissà dove ti mandano. Non è che ti mandano a Legnano. Stai a Milano e ti dicono c'è un posto libero a Legnano. No, no, no. Vieni, prendi una prenotazione nella tua zona, nella tua area geografica. Ovviamente sulle prestazioni a carattere elettivo. Non sarà per forza l'ospedale sotto a casa tua, nella via, nell'indirizzo ad esempio. Ok, centro unico poi. Ma intorno a casa tua. Secondo tema, questi poliambulatori territoriali, che proprio perché staranno sotto gli ospedali, permetteranno ai medici specialisti degli ospedali di lavorare non solo in ospedale, ma anche sul territorio, riducendo le liste di attesa. Purtroppo non sarà così, perché quello che lui ha detto è scritto a metà nella riforma. La cosiddetta agenda unica, il centro unico di protezione sia dell'ospedale che del privato, che può aiutare ad accorciare la lista di attesa. La chiediamo da anni. Loro hanno sempre detto che non l'hanno mai fatta. Perché cosa succede? Che il privato, anche se è convenzionato, cioè lavora con i soldi dei lombardi, può permettersi di fare alcune prestazioni e altri no. Noi diciamo benissimo il privato, quando però prende i soldi dei cittadini lombardi, deve farle tutte le prestazioni. E quindi vuol dire che si deve rendere disponibile anche per quelle prestazioni che sono meno remunerative. Si chiama tecnicamente agenda unico. Ma anche questo è preso dalla legge. Fammi un esempio di una prestazione poco remunerativa. Quando i pazienti diventano molto gravi e quindi hanno bisogno di più cure, più tempo, eccetera, poi spesso e volentieri vengono dirottati in ospedali pubblici che prendono tutti. Tutti quelli che ci ascoltano avranno avuto esperienza di qualcuno che alla fine gli è stato detto dall'ospedale privato «No, però adesso la prossima volta lei può andare a questo ospedale pubblico, vada a quello più vicino a casa». Quindi questa equivalenza presunta che non c'è tra pubblico e privato deve intanto… Sì, ma io sto parlando di una prestazione specialistica. Io avevo capito questo. Se io devo fare un'ecografia alla tiroide e ho tre mesi di lista d'attesa, Emanuele sta dicendo che col centro unico, oltre al Fatebene Fratelli, ci sarà anche la clinica Sant'Ambrogio. Magari la clinica Sant'Ambrogio ci ha posto prima, giusto? Non ti piace questa cosa? Se voi fate oggi il numero verde di Regione Lombardia… Ma stiamo parlando di una legge che dobbiamo ancora votare. Sto dicendo, in quella riforma… Ti diranno anche la Sant'Ambrogio e non solo il Fatebene Fratelli, giusto? È scritto. Però quale pezzo manca? Manca il pezzo che tu devi fare in modo che questa organizzazione sia garantita in maniera diffusa sul territorio e se tu la parte di sanità e di specialisti li fai gestire dagli ospedali, come scritto in quella riforma, fatalmente questi specialisti rimarranno agli ospedali e non saranno a disposizione delle case della comunità. Manca una persona in questo studio che è qualcuno che rappresenta il governo, perché a 8 miliardi di finanziamento al rettito di cittadinanza ci sono 2 miliardi di specialità al governo. Non so stare il governo, però tu cosa fai come Regione Lombardia su questo argomento? Tu devi fare anche la tua parte come Regione. È obbligare alcuni medici speciali, proprio perché lavorano per gli ospedali, a lavorare anche sul territorio e non lavorare solo negli ospedali. Grazie.